ciao a tutti cari amici benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale oggi andremo a vedere l'andamento per le coppie per il mese di aprile abbiamo tre scelte il primo mazzo e quello verde con capricorno vergine gemelli e bilancia secondo mazzo e quello azzurro con pesci toro leone e sagittario e il terzo mazzo e quello arancione con cancro acquario ariete scorpione quindi potete scegliere in base al mazzo o in base al segno zodiacale vi consiglio di ascoltare anche l'ascendente poi di integrare le due letture benissimo ci vediamo nella vostra scelta e benvenute alle persone della prima scelta andiamo a vedere il mese di aprile come saranno le energie tra voi e il vostro partner ragazzi può essere un partner ufficiale non ufficiale cioè può essere anche semplicemente la persona di interesse ok ovviamente è una lettura generale che non risuona tutto se non risuona se nulla se per caso voleste completare il vostro messaggio vi consiglio di ascoltare una delle altre letture o quella corrispondente al vostro ascendente per quello che riguarda l'integrazione di più oroscopi ho pubblicato una guida per aiutarvi appunto integrare diversi oroscopi insieme e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e i corsi gratuiti presenti sul canale bene andiamo a vedere il movimento energetico del prossimo periodo partiamo con un 5 di bastoni l'imperatore una regina di spade e un 2 di spade ragazzi devo dire che partendo con questo 5 di bastoni e come se ci fosse una sorta di lotta a inizio mese normalmente quando c'è un 5 di bastoni le lotte sono per cose futili sono per cosette per dettagli può essere anche una certa competitività tra voi e l'altra persona ci potrebbero essere come dei disaccordi magari visto che è uscito il carro potrebbero essere legati ad un viaggio potrebbero essere legati a uno spostamento una decisione da dover prendere andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta abbiamo 10 di spade il mago un fante di bastoni e la regina di bastoni questa ragazza della netto qua c'è il riflesso della luce si vuole iniziare qualche cosa si vuole iniziare a concretizzare probabilmente questa direzione questo viaggio ci si vuole spostare da quello che era prima si vuole come chiudere un ciclo inizio mese però vi dirò che avendo sia un fante che una regina di bastoni e come la sensazione che queste discussioni arrivino dal fatto che non siete sulla stessa lunghezza d'onda andiamo a vedere l'imperatore la regina di coppe e un cavaliere di pentacoli allora l'imperatore di solito è una carta che ci parla di stabilità di concretezza quindi quello che qui si cercava diciamo inizio mese verso metà mese potrebbe arrivare appunto questa concretezza questa anche espansione in un certo senso vi dico c'è sia l'imperatore che il cavaliere di pentacoli sono due carte che mi parlano di materialità idee di cose terrene concrete materiali ok dove tra l'argina di spalle asso di coppe 9 di pentacoli e 10 di bastoni allora ragazzi dipendendo dal fatto che vi identifichi a te o meno con la regina di spade devo dire che è un'energia molto fredda è un'energia perché guardate avete sia l'asso di coppa il contrario per 9 di pentacoli o proprio e tutta la sensazione che qualcuno non si voglia innamorare faccia di tutto per evitarlo il 9 di pentacoli proprio una carta che mi parla di una persona che è felice e contenta di essere da sola di essere indipendente quindi ragazzi o come l'idea che qui potrebbe esserci una relazione magari fresca chiamiamola così che da qualche cenno di concretizzazione verso metà mese ma è come se non non arrivasse completamente perché questo 9 di pentacoli non 10 muovere due di spade perché in effetti fine mese siamo con dei dubbi abbiamo un re di pentacoli e un re di bastoni o che interessante di nuovo concretezza sento che questa relazione è molto basata su quelle che sono magari delle ideologie piuttosto che il abbiamo detto che facciamo un viaggio e andiamo per il viaggio facciamo delle cose insieme per la serie ci facciamo compagnia siamo non su tutto però per certi versi sintonizzati sulla parte mentale ma quello che io vedo qui ragazzi che è la parte emotiva che un po carente se vogliamo c'è tanta passione questo sì c'è voglia di fare e si raggiunge anche un certo tipo di concretezza nel periodo sul su quello che si deve fare sul come andare avanti però come l'idea che ci sia un po di carenza dal punto di vista delle coccole e coccole quelle fatte fine a se c'è per fare una coccola all'altro ok non diciamo con scopo lo stesso dopo devo dire vedendo questo gruppo di carte e in effetti anche qui abbiamo tutti i gruppi di due persone e anche il carro per qualcuno ragazzi si tratta di scegliere una persona tra due potenziali partner perché effettivamente terminiamo con un bel due di spade e qui è la carta del dubbio quindi è un po come scelgo a re di pentacoli o scelgo il re di bastoni in qualche modo come la sensazione che con il re di pentacoli siate meno affini che siete più affini con il re di bastoni per darvi un'idea ma sapete che i segni lasciano un po il tempo che trovano perché poi bisognerebbe vedere la carta natale eventuali concentrazioni planetarie in zone diverse comunque il re di pentacoli potrebbe essere un segno di terra quindi toro vergine o capicorno e il re di bastoni potrebbe essere leone ariete o sagittario fortemente la rete va bene andiamo a vedere una carta di queste e poi una fatina ok qua ragazzi parla di una pugnalata alle spalle fondamentalmente di una delusione di un attacco lo potrei rivedere qua forse con il 10 di spade e il 5 di bastoni non lo sento in tutto il mese di aprile quindi se si manifesta si manifesta all'inizio del mese ok come se ci fosse una sorta di delusione probabilmente questa discussione non ve la aspettate ve la metto qui e poi abbiamo questa carta che mi parla di curare il cuore e ragazzi si lo sento molto collegato con questo asso di coppa al contrario è come se qualcuno uno dei due non si volesse esporre non si volesse innamorare non si volesse lasciare andare diciamo così allora e qui parla di liberarsi da qualche tipo di tossicità da qualche tipo di relazione tossica o di addizione di dipendenza vi dirò non è che lo sento tanto è questo diciamo che l'unica nota veramente un po negativa perché comunque avete carte belle l'unica parte leggermente negativa è l'inizio con questo 10 di spade il 5 di bastoni che mi dice che potrebbero esserci appunto come delle discussioni delle differenze di opinioni però non sento tantissima tossicità probabilmente però se avete bisogno di sciogliere il cuore è perché qui questa regina di spade mi dice che c'è una sorta di freddezza all'interno della relazione e c'è come bisogno ecco un consiglio che mi viene da da dirvi vedendo le carte lasciate stare le aspettative cioè quando uno si crea un'aspettativa si aspetta poi anche che l'altro soddisfi l'aspettativa e se l'altro non lo fa si resta delusi però l'aspettativa ce la siamo creati noi perché dovrebbe essere l'altro a soddisfare la nostra aspettativa cioè è un nostro punto d'arrivo è una nostra è un nostro traguardo se vogliamo quindi chi deve lavorare per raggiungere i propri traguardi siamo noi non bisogna aspettarsi che gli altri soddisfino le nostre aspettative e la stessa cosa vale per gli altri se gli altri hanno delle aspettative nei vostri confronti è un problema loro diciamo questo non lo dico per togliersi dalla responsabilità semplicemente per togliersi dalla colpa quando ci sentiamo in dovere di far qualcosa perché l'altro se lo aspetta e magari non abbiamo voglia non abbiamo tempo non abbiamo le capacità per aiutare l'altra persona però ci sentiamo in dovere di farlo perché l'altro ha l'aspettativa ecco va bene devo vedere una fatina non giudizio non giudizio sì infatti qual dubbio e sarà giusto sarà sbagliato indubbio potrebbe essere anche è giusto rimanere così o è giusto cambiare direzione e soprattutto una parte difficile del non giudizio è non giudicare se stessi fateci caso la sera quando andate a dormire il vostro critico interiore quanto vi martella quanto vi sgrida e quanto invece vi parlate con parole d'amore bene cari amici questo è quello che avevo per voi per il mese di aprile spero che insomma le carte vi abbiano aiutato ad avere degli spunti di riflessione interessanti fatemelo sapere nei commenti se volete sostenere il canale potete mettere like iscrivervi o condividere il video nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale se date un'occhiata alle playlist trovate le copertine lilla quelle sono i video diciamo dedicati agli abbonati ma comunque i titoli sono pubblici quindi li potete vedere bene io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao e benvenute alle persone della seconda scelta anche per voi andiamo a vedere le energie di aprile ragazzi vi ricordo che le letture sono generiche facili che non risuoni tutto se non risuona se nulla se voleste completare il vostro messaggio potete ascoltare una delle altre scelte oppure la scelta inerente al vostro ascendente per capire come unire le varie stese ho pubblicato una guida la trovate sotto in descrizione e sempre in trovate anche il link all'oroscopo del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale bene andiamo a vedere qual è l'energia disponibile ok partiamo con la carta del mondo il giudizio la forza e il sole ragazzi avete quattro arcani maggiori e quattro arcani maggiori e belli potenti vabbè gli arcani maggiori sono tutti potenti periodo intenso sento come se ci fosse qualcosa inerente una distanza per molti fisica per molti una distanza di idea e poi c'è anche questo giudizio che mi dice che c'è qualcosa che non capite di come stanno andando le cose andiamo a vedere carta per carta partiamo dal mondo scusate non ve lo dette mondo giudizio forza e sole abbiamo un 6 di bastoni e l'imperatrice o come la sensazione che non sia ancora una cosa del tutto completa con questo mondo al contrario ma si è una relazione che piano piano va verso una crescita un'espansione una prosperità per lo meno all'inizio di aprile sento che c'è questo input devo vedere il giudizio 7 di pentacoli 3 di spade asso di spade e giudizio qui ragazzi potrebbe arrivare una chiamata una comunicazione non proprio leggera mi viene da dire e se prima cioè è un po come se capite un argomento con questo asso di spade questo giudizio all'interno di un tema un po più ampio rispetto a questo giudizio al contrario come se qualcuno a metà aprile stesse aspettando delle notizie queste notizie effettivamente arrivano e non so se il 3 di spade è collegato al il 3 di spade collegata all'attesa di queste notizie che non arrivano o di questa comprensione che non arriva o di questa perché tenete presente che sia il mondo che il giudizio sono due carte di nuovo il mondo una carta di compimento che conclude un ciclo ne apre un altro mentre il giudizio e il risveglio diciamo il preambolo del mondo del nuovo inizio però sono tutto due girate al contrario come la sensazione che si faccia fatica a partire cioè c'è l'ideale c'è comunque un certo tipo di concretezza ma c'è come una notizia un qualche tipo di attesa nella parte centrale di aprile inerente l'altro però vi dico che anche questa notizia arriva tenete presente che la sua risposta è una carta che mette chiarezza mentale taglia ed è anche il radi spade taglia devo vedere la forza abbiamo un cavaliere di bastoni al contrario e la luna interessante perché abbiamo solo il una potere maschile scusate potere maschile potere femminile qui ragazzi c'è mi viene a dire da prendere il toro per le corna la forza una di quelle carte che vi invita a usare la dolcezza per ottenere quello che voi volete più che la forza più che l'astuzia più che i raggiri diciamo così c'è da dominare un certo tipo di istinto guardate non so perché ma mi viene da dire distruttivo sento che c'è come non dico della non è rabbia però è come se si volesse cambiare un qualche tipo di dinamica e quindi si vuole distruggere diciamo un tema del passato un'ideologia del passato o come questa sensazione probabilmente è lo stato di attesa che si vorrebbe tagliare togliere o come l'idea che qualcuno qui stia aspettando l'altro o l'altra e che quest'altro o altra non si muova tanto i presupposti positivi ci sono ma poi come se ci fosse una sorta di rifocalizzazione a metà mese sul ma perché l'altro fa così ma perché l'altra non si fa sentire ma perché mi risponde dopo così tanto tempo però sento una forte pazienza da parte vostra e un anche una certa staticità e vedendo queste due carte qui perché è come se andasse avanti un po per forza di volontà in questa relazione dove del sole ho perso delle carte un attimino 2 di pentacoli e solo al contrario allora per come la sento io ragazzi qui c'è tanta polarità positiva ovvero tanta staticità o come questa sensazione da parte vostra uomini o donne che siate la polarità positiva è collegato al è collegata alla luna la femminilità e anche un po a questo stato passivo di aspettare fondamentalmente che le cose succedano che un po l'ombra in realtà del lato della polarità positiva questo procrastinare questo rimanere in attesa aspettare che chissà chi cambi le cose e con la carta del sole o come la sensazione che vi dicano di agire perché è una carta young qui dovete prendere in mano la situazione perché ci sono delle dinamiche che si ripetono e si ripetono e si ripetono e si ripetono non so se in questa relazione specifica o nella vostra vita in generale proprio come l'idea che dobbiate fare le cose in modo un po più chiaro tenete presente che se qui non c'era diciamo verso metà mese quella chiarezza su dove va la relazione come concretizziamo una relazione quanto devo aspettare quanto è giusto aspettare quanto invece l'altro dovrebbe farsi avanti ecco a metà mese ci sono un po tutti questi dubbi con il sole a fine mese sento che arriverà la chiarezza mentale e qualche cosa mi dice che per un gruppo piccolo di persone deciderete di rimanere solo amici andiamo a vedere un oracolo anima gemelle anzi yin yang che è proprio sole luna guardate unione dualità parla quello che vi dicevo prima e complementarsi l'uno e l'altro qui ragazzi io credo che il punto sia non aspettarsi che sia l'altro o non aspettare che le cose cambino ma agire un pochettino più voi di vostra di vostro pugno mi viene da dire senza aspettare appunto che sia l'altro cioè se l'altro dice ma non so o l'altra magari c'è della distanza e quindi non so c'è la difficoltà dividersi o cose così non aspettate sempre che sia l'altro a venire da voi ma magari fate voi un'azione andate voi dall'altro o dall'altra per farvi capire un esempio è ok allora andiamo a vedere le fatine con le fatine abbiamo appagamento e energia il bilanciamento line young ve lo metto qua sotto sarebbe anche bene qua in mezzo tra sole e luna e questa carta è appagamento ecco questa carta mi fa venire come un suggerimento da darvi e cioè di focalizzarvi sul ringraziare di tutto quello che avete perché ogni singola cosa ogni carta ogni oggettino che io ho è comunque una forma di ricchezza ed è comunque una benedizione che arriva dall'alto e quindi è giusto essere appagati di quello che si ha dei risultati raggiunti e sentirsi anche benedetti mi vien da dire amici della seconda scelta questo è quello che ho per voi spero che la lettura vi sia stata utile fatemelo sapere comunque nei commenti se volete sostenere il canale potete mettere like iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale se volete dare un'occhiata ai temi trattati per gli abbonati potete dare uno sguardo alle playlist con la copertina lilla quella viola chiaro perché quei video lì sono esclusivi per gli abbonati bene vi ringrazio essere stati qui vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao e benvenute anche le persone persone del terzo gruppo anche per voi andiamo a vedere ad aprire le energie che ci sono disponibili vi ricordo che le letture sono collettive quindi è facile che non risuoni tutto voi prendete quello che vi serve e se non risuona nulla volete completare il messaggio potete ascoltare una delle altre due scelte o quella riferita riferita all'ascendente per quello che riguarda come integrare più letture ragazzi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione è sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e il link ai corsi gratuiti che sono presenti sul canale allora quattro di pentacoli re di pentacoli il mago 8 di pentacoli e amanti wow allora devo dire che si parte con una sorta di attaccamento con questo quattro di pentacoli o potrebbe anche essere una sorta di zona di sicurezza andiamo a vederlo con con i mini tarocchi nello specifico però poi abbiamo anche ora di pentacoli e ragazzi che potrebbe proprio far riferimento alla vostra persona di interesse andiamo a vedere 4 di pentacoli 6 di bastoni sole e 8 di pentacoli che avete già qui potrebbe essere una situazione legata al mondo del lavoro e vi dico potrebbe essere per qualcuno un'amicizia nato sul mondo del lavoro un'amicizia nel senso che è una relazione un rapporto genuino pulito o come la sensazione che qualcuno si stia innamorando si sia innamorato del capo andiamo a vedere questo re di pentacoli abbiamo un 4 di spade un cavaliere di spade un eremita e un papa potrebbe anche essere sposato questo capo devo dire ragazzi che se fosse diciamo il vostro partner c'è come una sorta di volontà mi viene da dire da uscire da questa situazione non è una situazione brutta però una situazione un po statica ecco e quindi c'è come questa voglia di uscire di uscire allo scoperto di fare qualcosa per qualcuno si tratta proprio di ufficializzare la relazione se per caso questo re di pentacoli rappresentasse il vostro capo come vi ho detto prima o comunque qualcuno che è sposato devo dire che per certi versi vi sentite un po fagocitati dalla situazione per altri versi vedo questo eremita che mi pesa nel senso che è come se ci fosse una sorta di solitudine all'interno di questa situazione non è il mago nel cavalliere un fante di denari un 5 di spade e un quadro di coppia allora ragazzi qui ci potrebbe essere un una volontà di iniziare qualcosa per lo meno il mago è un numero uno quindi è un nuovo inizio all'interno della relazione può essere un nuovo progetto questo nuovo hobby può essere un nuovo non lo so anche una terapia ipotesi per però qua le cose non sono molto chiare vi devo dire perché abbiamo un 5 di spade che mi parla di lotte egoiche e di qualcuno che cerca più che tutto di aver ragione più che di trovare una reale soluzione ai problemi della coppia e c'è anche questo quattro di coppe che insomma mi fa pensare al fatto che stiate guardando solo in una direzione davanti a voi e non vi guardate di fianco o come questa sensazione che non abbiate una visione completa di insieme però andiamo a vedere lotto di intacoli abbiamo un 2 di pentacoli e un cavaliere di bastoni voglio anche una carta per gli amanti mondo e carro allora ragazzi qui con questo 2 di pentacoli allora da un lato mi dice che c'è come una dinamica che continua a ripetersi notate qui il segno dell'infinito e anche qui sul mago c'è il simbolo dell'infinito come se ci fosse una dinamica che continua a ripetersi probabilmente qui siete attaccati a una zona di confort a un certo tipo di quotidianità mi vien da dire di rapporto nel quotidiano però ecco sento che ci che si vorrebbe qualche cosa di più si vorrebbe anche magari un ufficializzazione con questo papa però è un po come se si guardasse solo in una direzione in realtà non ci si rende conto appunto che ci sono queste dinamiche che si ripetono normalmente quando c'è un 2 di pentacoli potrebbero essere dinamiche dinamiche karmiche e ho l'idea vedendo anche questo cavaliere di bastoni al contrario che siete sempre voi che andate sotto all'altro che vi fate sentire che ammiccate che proponete cose qui o come la sensazione che vi dicano di ritrovare l'armonia di ritrovare l'equilibrio che è di dare una direzione alla situazione alla relazione per avere il completamento potrebbe anche essere un invito a fare un viaggio ad organizzare un qualche tipo di spostamento di fine settimana le terme mi parlano per conoscervi meglio per riportare armonia per diciamo introdurre la comunicazione in modo intimo perché sento che c'è e non c'è soprattutto qui la comunicazione ha bisogno di essere migliorata ecco tra di voi soprattutto fate attenzione verso fine mese direi a questo 5 di spade perché se foste se fosse una questione sul mondo del lavoro potrebbero esserci dei pettegolezzi se fosse per esempio una questione di discussioni tra voi e l'altro potrebbero drenare energie e far sì che si ripetano dinamiche senza trovare una reale soluzione al problema qua si tratta di ritrovare l'equilibrio tra le due persone tenete presente che due di pentacoli la carta del giocoliere ed è anche un invito a prendere le cose un po più diciamo con leggerezza scherzando giocando c'è anche un pochettino su prendere la vita un po di più con filosofia diciamo